Finalmente il mio potere è stato riconosciuto, la regina Ferinichi è tornata e potrò compiere il mio destino governando un vero e proprio regno. Si salvi chi può. E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi. Sì, sono Stef, e che si giochiamo a Sword of the Court? È un giochino che abbiamo visto portare giusto ieri da Stepney e ce ne siamo totalmente innamorati. Quindi abbiamo deciso di portarlo pure noi, ma poi cosa volete di più? Mi danno la possibilità di regnare, di avere un mio regno, di poter aiutare i miei sudditi oppure condannare, non lo so ancora. E io sono troppo felice. Infatti si poteva scegliere tra re e regina, ovviamente abbiamo scelto la regina perché questo è il gioco apposta per me. Io ovviamente sarò il tuo consigliere, quindi avrai... No, no. Hai bisogno di un consigliere saggio perché sei una regina... Ferinichi non ne ha bisogno. La regina pazza, hai già il soprannome. Allora, non ci provare a screditare il mio regno, ok? Io sarò una regina saggia e bravissima, perfetta. Mentre dorme. Allora, direi di iniziare. Primo suddito. Praticamente uno scheletro, come potete vedere, e ci dice... È un po' strano che io se una scheletro non trovi? Secondo me non è poi così strano. A me va bene averlo nella mia corte, quindi mettiamo no, giusto? Perché chiede... È strano che io stia con te, quindi penso che... Entra a bocchetto. Entra a bocchetto. Metti no. No, mia regina è arrivato un suddito. Allora, si chiama Sneaky Girl, che già è terribile. Allora. È decisamente una ladra, secondo me. E dice che... Delle guardie le hanno confiscato dell'oro. Se puoi riaverlo indietro. Che ha, che ha, che fa... Trovato. Eh, eh. Ecco. No, non lo puoi riaverlo indietro perché l'hai rubato. La regina dice di no, se ne vada. E infatti ci siamo fatti 25 di oro. Oh, bello. Ci pagano pure per questi consigli. Ma è fantastico. No, allora non hai ben capito. Allora, prima di tutto, che cosa ci fa un vampiro? Che bel era! The feelings pochi today, sì. Sì, sì. Mi sento un po'... Sì, un po' tutto macaco. Guarda che pericoloso, eh. Ma come? No! Ok, ha ammazzato una persona. Brava. Complimenti. Dai la ragione ai vampiri. Ma io volevo, volevo essere amica dei vampiri. No, vabbè, cosa ci fa adesso un gatto? Sì, che puoi avere tutto il cibo che vuoi. Ti do anche oro perché sei un gattino fantastico. Sì, sei sicura. I gattini sono il mio punto debole. Così come i cagnolini. Ah, che regina inutile. Abbiamo fatto uno di felicità per due di oro. Dai, può andar bene. Ti dicevo, allora, forse non ti è ben chiaro un pochettino quello che devi fare. Ok, dimmi, dimmi. Cioè, è una regina e neanche sa quello che deve fare. Io non aggiungo altro. Non è vero. Ma essendo suo consigliere le spiegherò tutto. Allora, tu praticamente in basso a sinistra hai la tua popolazione, la felicità e i soldi. Ok. L'obiettivo è non finire i soldi, aumentare la popolazione perché vuol dire un regno più grande e potente e allo stesso tempo tenere una buona felicità. E il primo giorno è finito. Ah, ok, va a giornate. Uno di popolazione, abbiamo fatto uno di felicità, 23 soldi, dice che le persone sono ancora felici e la città sta crescendo. Vedi, è stato solo l'inghippo del vampiro che ha ammazzato un povero, un povero popolano, chiamiamolo così. È tornato lo scheletro, omero, è un gioco di parole perché... Perché è l'osso, è l'u e le ossa. Allora, beh, sì, allora. Allora, no, dovevi dirgli no? Guarda, l'abbiamo fatto felice, due felicità senza perdere nulla. Ma stai facendo le cose al posto mio? Perché il tuo consigliere è fisaggio. Allora, io non le sopporto le battute bambe, cioè te lo dico subito, non le sopporto, quindi gli avrei detto di no. Allora, hai sbagliato col vampiro, quindi toccava una volta a me. Forza. Allora, questo poveretto... Allora, dice che praticamente la sua barca è troppo piccola per prendere troppi pesci. Quindi chiede praticamente dei soldi per migliorare la sua barca. È un investimento, praticamente ti chiede dei soldi. Lui si migliora la barca e dice farò più soldi e quindi te li riporterò indietro. Vuoi investire su quest'uomo molto carino? È un po' pelato con gli occhi celesti? Non so se mi fido. Sembra un principe azzurro. Diamogli fiducia e vediamo come va. Mi sei piaciuta. Proviamo a dare fiducia. Cento? Vabbè, però me lo potevi dire prima. Allora, ho detto che comunque me li rende, quindi lo voglio vedere. Allora, se non torna a rendermi soldi, decapitato. Ok, va bene. Decapitato. Inizia ad avvisare le guardie, va bene? Allora, c'è una nonna adesso. Ciao tesoro, posso prendere delle monette? Certo, vada, vada, nonnetta. Per il giornale? Ma le stai regalando il giornale? Sì, ma una moneta per uno di felicità ci può stare. Immaginavo che costasse poco il giornale. Ti devo mettere in guardia. Questo qua è il Monsieur Mouton e dice che taglia i capelli. Quindi dice... Se voglio un barbiere esperto. Se vuoi un barbiere esperto nella tua corte. Allora, però prima conoscerò questa luce strana. È arrivato il vampiro e ha fatto un disastro. Quindi no! Ma secondo me la luce strana è che sta finendo la giornata. Ah, dici. Il discorso è che guardando i suoi capelli a me non sembra proprio bravo a tagliarli. Quindi sinceramente... Guarda che i miei sono un po'... Eh sì, anche tu non sembra sapere. No, non lo voglio. No, scusaci, non ci interessa. Ok, ciao. Vuole andare in avventura. Lo vuoi mandare? Sì, vai, divertiti. Vai, divertiti. Gli succederà qualcosa di terribile, vero? Due difficilità. Guarda, dice che è felicissimo di esplorare. Sì, anche secondo me succederà qualcosa di brutto. Lo volevo io come figlio. No! No, 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 vattene, vattene, via, sparisci. Ok. Sei un traditore della corte. Oh, un bel mago. Gandalf. Bello, Gandalf, salve, sei venuto a trovarmi. Allora, dice che può fare una magia. Vogliamo provarla? Sì, sì, a me piace la magia. Vai, sì. Vediamo cosa succede. Ma la voglio anche io la magia qua che mi chiamano soldi. Cioè, perché non ce l'ho nella realtà? Credo, perché cerchiamo di capire le cose, perché dobbiamo andare bene anche nel futuro. Certo. Che è totalmente casuale. E lui fa una magia perché dice a spell of great fortune. Quindi poteva capitare un'altra magia. Capito? Io sono la regina migliore, quindi solo fortuna per ferrimi. Che fortuna incredibile. Oh, è tornato il gattino. Sì. Sì, perché se no non torna più, capito? E se non torna più diventa triste. Ci stiamo andando da mangiare ai gatti. Oh, di nuovo lo scheletro. Dice che lui per noi può andare a curiosare in giro per vedere se c'è qualche mistero da, capito, da svelare, da risolvere. Sì, perché nelle corti i traditori sono sempre dietro l'angolo. Quindi magari si riesce a scoprire qualcosa. E poi l'abbiamo pagato 10 monetine, dai, ti dirò. E se farlo gratis qua tu sei il mio subito. Guarda che guadagno. Guarda che guadagno incredibile oggi. La popolazione continua a crescere. Siamo a 105. Per ora stiamo andando benissimo. E nonnetta. Sta iniziando. Praticamente adesso, dopo che le abbiamo dato il giornale, vorrebbe aprire un negozio di soup. Quindi penso di zuppe e cose del genere. Allora. E ci chiede se è una buona idea. Ovviamente vuole dei soldi. Da consigliere ti dico che una persona che ti chiede soldi due volte in due giorni e un peso per il regno. Ma poverina. Lo so. Lo so. È una nonnetta. Però se... Allora. Perché se l'aiutiamo poi magari ci ridarà dei soldi indietro. Lei non l'ha detto a differenza di quello della barca. Non ti sta dicendo ti ridarò i soldi. Dice solo che le servono i soldi. Non lo so. Che mi consigli? Io le consiglio il no. Andiamo di no. Bisogna essere rigidi per governare. Uno di felicità in meno ci avrebbe preso almeno 50 monete. Quindi secondo me è meglio così. Di nuovo. Aspetta. Allora. Parla di un cristallo dei vampiri. Magico per di più. Ti interessa? È pericoloso lui. Comunque dopo che l'abbiamo fatto a zanare una persona. Lui viene sempre volando. Quindi gli abbiamo dato del potere. Bisogna capire se più potere gli diamo meglio è o peggio è. Questo è il dubbio. Non lo so se fidarmi. Sono molto indecisa. Lo so. Che dici? Che dici? Sì. Sì? Voglio rischiare. Vuoi rischiare un po'? Voglio... Oh cavolo. Oh cavolo. No, non fa fidarsi. È un disgraziato traditore incredibile. Ciao, Jesus. Sì. Sto sterminando la mia popolazione. Bisogna decapitarlo. Ok, torna il mago. Attenzione. Te la vuoi rigiocare? Sì. Andiamo mago. Il video del mago. Ma porca miseria. Allora. Hai sterminato la meta del regno? Allora, mi sto risistemando. Scusa, aspetta. Mi devo risistemare. Hai bevuto un po' oggi, vero? No, perché sta andando male questa giornata. Praticamente. Aspetta. C'è una cesta con i denti che si vuole mangiare qualcosa. Dice che ci dà dei soldi per mangiare delle persone. No. Secondo me no, perché in questo momento... Ecco, cioè sinceramente in questo momento... Abbiamo già perso troppe persone per colpa mia. Oh, una gallina. 26 persone morte, 30 persone che non sono più felici, zero monete guadagnate per di più, peggio di così non potevi fare. Allora, io lo so, perché praticamente a corte io ho i miei veggenti e mi avevano previsto una giornata di sfortuna, capito? Il giorno 4. Verrà scritto nella storia. Sì, esatto. Il punto debole di Ferinichi è il giorno 4. Sì. Speriamo non tutti i multipli di 4. Oh, che bellino! Allora... Sì che abbiamo parlato con Skelly, Skelly è lo scheletro. Sì che ci abbiamo parlato. Quindi yes. Quindi sì. Sì, ci abbiamo parlato. Oh, grazie! Grazie, sei bellissimo! Sei bellissimo, finalmente qualcuno che un po' ci fa riprendere. Che bello. 50 monete. Perché non ci vuole... Oh, un lavoratore. Allora, vuole costruire un granaio, questo farà espandere la nostra popolazione, però costa un po'. No, sì. Direi che è il momento di farlo. Per farci perdonare mi sembra giusto. Più 7. Esatto. 70 monete. No, ma dicevo, per farci perdonare della giornata di ieri mi sembra giusto aiutare un po' il popolo. Voglio... Eh, vabbè, pure il diavolo. Ci dà lui dei soldi. Ah, ok. Per prendere delle anime delle persone, no. No, no, no. No, no, no. Non ci interessano i tuoi soldi, ok? Vai via, guarda, dopo il vampiro ormai sto attentissima. Oh, che bella milady. Royal advisor. Senti questa, ci sta chiedendo se noi sappiamo qualcosa riguardo a un alieno, perché diversi villagers lo hanno visto, dicono di averlo visto, e ci sta chiedendo se noi ne sappiamo qualcosa. Ma qual era l'alieno, scusami? L'alieno era quello che ha detto, avete incontrato Schelly? E noi gli abbiamo detto sì, e lui ha fatto ok, non fargli sapere che io sono venuto qui. E allora diciamo... Ma però, cioè, tradire Schelly... Tradiamo Schelly o l'alieno? Io tradirei l'alieno. Schelly è stato molto fedele con noi, sta lavorando nella nostra corte ormai da dieci giorni. Scegli tu. Dai, io faccio yes. Scegli tu. Ok, dice che lo andrà a cercare, speriamo che vada bene. Ma povero, l'abbiamo tradito. Eh, lo so. Tristezza. E questo di nuovo? Eh, ma ti stai divertendo un sacco, vuole ancora alzare i prezzi, secondo me questa volta è troppo. Questa è una brutta cosa. Allora, praticamente il loro granaio, cioè le loro scorte di grano... Sono infette. Sono infette, quindi sicuramente qualcosa... Oh, no, praticamente o rimpiazziamo queste scorte di grano... Eh, l'ho capito, o le persone si ammaleranno. Rimpiazziamole. Sì, dai, cioè non possiamo perdere... Oh, 70! Ah, che scherzi. Che scherzi. Che è stata dura. E adesso lui vorrebbe pure dei soldi per migliorare qualcosa? Sì. Dai, investiamo tutti i nostri soldi. Rimaniamo con 11. Guarda che buona notizia, sono arrivati dei rifugiati 15 persone per la città. Abbiamo talmente tanta popolazione. Non è una buona notizia, hai tradito la strega e sono arrabbiatissima. Guarda... Hai tornato. Sì! Sì? Certo! Sì, vogliamo nuovi amici, porta i tuoi amici, vai, bellissimo! Siamo quasi tornati a 100. Il problema è che non abbiamo soldi. Esatto. Allora, scusami amico mio, però... No. Ci hai chiesto un sacco di volte i soldi, ok che tu costruisci? Vuole 200, 200, no non ce li abbiamo, mi dispiace. Ci dispiace, cioè non abbiamo soldi, devi capire la povera regina. Eh sì, li ha spesi tutti per voi, accidenti, guarda eh. Però guarda la popolazione, 95 e 108. Almeno quello, almeno quello. E' una buona roba. Che cos'è? What can I have a coin? A good coin? Tieni Timmy. Tanto una, giusto? Ok. Sì. Thank you, ciao Timmy. Allora, Timmy è molto strano, io inizio a dirtelo che sta iniziando a diventare strano, eh. Vedila come un bambino troppo allegro, ok? Allora, ehm... Questo è difficile, no abbiamo soldi. No, mi dispiace, che se ne vadano. Ci ha richiesto di nuovo dei cittadini che sono... Sì, no basta, stanno esagerando questi cittadini. Ok, è tornato lui. Allora, eh, ci sta chiedendo se vogliamo delle spade per la città. Comprare le spade per le nostre guardie. Non ci dici il prezzo? Cioè, ma andiamo sotto se le spendiamo, perché? Che dici? Perché le spade con le guardie... Le spade servono per proteggere. Provaci. Però felicità, la felicità non ci serve al momento. Dai, non spendiamo. Guarda, non abbiamo perso nulla. Ok. Meglio così, dobbiamo conservare i pochi soldi che abbiamo e fare qualche patto strano per guadagnarci qualcosa. No! Le ha mangiate lo stesso! C'è una cesta con i denti che si vuole mangiare qualcosa. Dice che ci dà dei soldi per mangiare delle persone. No! Secondo me no, perché in questo momento... Ecco. La cassa del tesoro ha mangiato lo stesso delle persone. A quel punto ci facevamo dare i soldi. Ma dai... Di nuovo a coin. Vabbè, dai, Timmy. No, devi dirgli di no. Cioè, qua non siamo messi bene. Ascolta, ne dai due... Ogni moneta è importantissima. Ne dai due il gatto ogni volta. Il gatto se lo merita. Mmm... A spooky nickname. Sì, lo voglio. Vediamo come mi chiami. You can be the Creep Queen. Mi piace, bellissimo. Perfetto. Grazie, grazie, bellissimo. Creep Queen mi piace. Ce lo vedo benissimo. Sì, anch'io me lo vedo benissimo. Ok, attenzione, il nostro generale. Allora, un prigioniero è scappato. No, non mettiamo una taglia. Mi spiace. Ok, abbiamo perso una persona, ma pazienza. Non abbiamo soldi. No, voleva praticamente dei soldi per andare a recuperare queste persone che sono scappate. Vabbè, vabbè, vabbè. Il nostro popolo vuole aprire i confini del nostro villaggetto. Ma fate quello che volete. Sinceramente ci va bene. Mi facciamo... Oh! Wow! Hai visto che qua... Sì, sì, sì. Questo è il nostro villaggio. Si è ingrandito così. Buf! All'improvviso. No, bello, bello. Poi comunque, contando che ci arriva la popolazione, secondo me, era meglio fare un po' di tutto. Ah, guarda! Perché l'abbiamo aggiustato, ti ricordi? I offer my tanks for your help. Ok. Finalmente le mie scelte vengono ripagate. La mia gentilezza è stata ripagata perché io sono stata gentile con lui. Sono molto felice. Guarda quanto è andato bene. Che giornata! Ci siamo ripresi! Ci siamo ripresi, bellissima! No, siamo addirittura più in alto dell'inizio. Cioè, stiamo andando alla grande. Guarda il nostro villaggio quanto è diventato gigantesco. Oh, mamma mia! Ehm, è inquietante. Sta andando tutto bene. Sei sicura di voler avere a che fare con un occhio che si muove da solo? Sì! Sono curiosa, sì! Ok, la tua curiosità ti porta 100 monete. Io te l'ho detto che quando faccio le scelte senza di te, sono le scelte migliori perché tutte le volte che ho scelto se il tuo consiglio io ho guadagnato un sacco di soldi. Purtroppo le dovevo mettere. Capito? Allora... Vabbè, ma... No, non puoi andare a rubare dai ricchi. Che poi dice, non è che rubo solo i ricchi, rubo a tutti. No, non puoi rubare. Te l'abbiamo già spiegato. Sicura? No. Esatto. Secondo me poi ruba per conto suo, eh. E lei sta dicendo che ruba le cose alle persone e le porta a noi. E le porta a noi. Perfetto! Ah, figata! Dai, faccia di no. Prova di sì. Sicura? Vediamo che succede. Io non c'entro nulla con questa tua decisione. No, l'hai scelto tu. No, non l'hai scelto io. L'hai scelto tu. Non mi prendo la responsabilità. Ti fa rubare al povero popolo, l'hai scelto tu. Non mi prendo la responsabilità. Se accetti è una tua responsabilità. Tu sei la regina? No, allora no. Ok. No. Non me la prendo io, mi dispiace. Direi di fermarci così per questo primo episodio. Abbiamo registrato forse anche troppo, credo che sarà... Ma è bellissimo, è bellissimo. ...parecchio lungo questo video. È davvero carino. Se vi piace lo continuiamo più che volentieri. Quindi in base a likes, views, commenti, il sondaggio che come sempre mettiamo... Nel prossimo episodio puoi fare tu il re. Capito? Facciamo un po' un po'. Questa era la mia giornata nel prossimo episodio. No, ma io andrei a una partita intera a testa. Perché non voglio avere nulla a che fare con ciò che hai fatto fino ad ora. Ok? Finisce questa partita oppure... Io spero che la possiamo riprendere da dove ci siamo fermati. Non ho un'idea. Vabbè, altrimenti tu si gioca a 20 ore di fila. È impossibile. Eh, esatto. Penso che si possa salvare. Quindi credo che si salvi, quindi nel caso finiamo la tua partita e poi ci sarà Steph il re magnanimo. Perché io sono magnanimo, a differenza della regina pazza. I tuoi consigli hanno portato solo distruzione e povertà, quindi... 160-135. Eh, ma perché poi erano i miei. Io ho avuto fortunato i miei sudditi, dai. Credici. Sto registrato, non provare a te bugie. Non ci provare, non ci provare. Comunque ci fermiamo così. Speriamo tantissimo che vi sia piaciuto perché è davvero fantastico. Questa è un'altra tipologia di gioco che adoriamo e che siamo felici di poter portare nel canale. Assomiglia un po' ai Woldu Raider, però in versione giochino. Quindi siamo felicissimi e speriamo che vi sia piaciuto. Bene, che si riuscite così. Se vi è giocato, lasciateci un like. Questa è la prima volta che vedete il nostro video. Potete considerare il video di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.